Ben trovati a questo nuovo appuntamento Buongiorno da parte mia e della redazione giornalistica. Iniziamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali partendo dal centro che già vedete alle mie spalle. L'edizione di Pescara titola in apertura così ospedale. Mancano 12 anestesisti. Pescara-Lasl non troviamo specialisti lunghi attese per gli interventi. Andiamo a vedere lo spazio delle cronache. Pescara nell'incubo di bus senza aria condizionata. Andiamo a leggere anche l'estratto dell'articolo. Sugli autobus è meglio salire muniti di ventaglio perché il caldo delle vetture è asfissiante. Si prega di lasciare chiusi i finestrini, vettura climatizzata, i cartelli ancora firmati gestione trasporti metropolitani sono appiccicati ovunque sui mezzi urbani della tua, la società di trasporto unico abruzzese. Il centro è salito sugli autobus di linea che attraversano quotidianamente la città per registrare i disagi e le lamentele di quanti li utilizzano quotidianamente. Scendiamo ancora a Pescara. Ladre in casa le scopre con il telefonino e poi Montesilvano di Sabili al mare con l'assistenza degli immigrati. Continuiamo la lettura della prima pagina del centro di Pescara. In Abruzzo il tour L'amore che torna, Pescara stadio in delirio per il concerto dei Negramaro. Nella Didascalia migliaia di persone hanno gremito lo stadio adriatico di Pescara per il concerto dei Negramaro. In Abruzzo con il tour L'amore che torna, il cantante Giuliano Sangiorgi che vedete nella fotografia si è scusato con il pubblico per la lunga attesa al caldo e poi si è complimentato con tutti i fans. Senti Pescara come canta, ha detto il frontman dei Negramaro. Poi andiamo subito sotto la fotografia, 24-25, il viaggio a vuoto, caro pedaggi, i sindaci a Roma ma il ministro Toninelli non c'è. E poi il livello del mare nel 2100, l'Enea, Martinsicuro, Fossa Cese e Pescara rischiano l'inondazione. Di spalla troviamo l'Aquilone, a Pescara Sara Jane Morris alle Nayadi e poi i premiati Storaro e altre stelle al Flaiano. Estatica la band di Indirocca a Pescara per beneficenza e poi opera prime, registri esordienti in scena a Roseto dall'8 al 15 di luglio. Nel taglio basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il Vate, un estetista, autore dei Malavoglia. Questa è una delle risposte, degli strafalcioni dati agli orali dagli studenti che si accingono a prendere la maturità. Continuiamo con il quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere adesso la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. In apertura, Maruccino, non pagati gli artisti, arrivano i decreti ingiuntivi per la prima opera del bicentenario del Teatro di Chieti. Proseguiamo con lo spazio delle cronache. Anziana truffata, arrestato il finto postino ad Atessa, truffa per 2.600 euro a un'anziana e sta per farsene consegnare al tre tanti, ma i carabinieri lo fermano in tempo e è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Atessa, un 29enne di Napoli che stava per spillare oltre 5.000 euro a una 79enne del posto, facendo leva sul suo amore per il nipote 13enne. In attesa del processo, per il giovane truffatore, il giudice ha disposto il divieto di soggiorno e transito in tutti i comuni d'Abruzzo. A Palmoli lo scambio di coppie finisce in tribunale. A Ortona nomina il porto e scontro sul nome del vecchio. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione Terramani. In apertura Coppa Interamnia, festa in piazza, migliaia di giovani attreti alla sfilata inaugurale della 46esima edizione. E poi ancora nello spazio delle cronache, il processo Castrum, il test e favore all'ex assessore per la sua casa, quasi sei ore in un'aula di tribunale, a ricostruire due anni di indagini complesse sfaccettate, come raccontano i 43 faldoni messi insieme dalla Procura, la cronaca della nona udienza del processo Castrum, su un presunto giro di appalti e mazzette, quella di una mattinata che scivola nel pomeriggio con la lunghissima audizione del maresciallo Massimo Continenza, uno dei finanzieri del nucleo di politica economica e finanziaria del comando provinciale che hanno seguito l'inchiesta. E poi a Roseto, sparite nel nulla, 232 biciclette del bike sharing e ancora l'Università di Terram, siamo una task force per salvare il rinoceronte. Continuiamo con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali, quella dell'edizione aquilana, Gran Sasso sfida a colpi di ricorsi, il titolo di apertura, l'Aquila battaglia legale sugli incarichi tra i due big del centro turistico. E poi nelle cronache l'Aquila PD, lo strappo di Di Benedetto è solo l'inizio, il PD aquilano si spacca, oggi verrà ufficializzata l'uscita dal gruppo consigliare e quindi anche dal partito di Americo Di Benedetto, Emanuela Iorio e Antonio Nardantonio. Una decisione che era nell'aria da giorni e che potrebbe preannunciare anche fuoriuscite future, anche se per ora il segretario comunale Stefano Albano nega che esista questo pericolo e che dietro i tre consiglieri vi siano movimenti correntizi. Aspetto di sentire le dichiarazioni ufficiali, dice Albano. Ad Avezzano è giunta un anno tra polemiche, seggio conteso, a Sulmona a Scuole Sicure riparte la mobilitazione. Andiamo a centropagina, nella fotonotizia Tagliacozzo, Festival dell'informazione, il cronista aggredito da spada, più inchieste e meno bufale precari, curiosi, un po' testati, di questi giornalisti di oggi, secondo gli addetti ai lavori, intervenuta a Tagliacozzo al festival Controsenso. Dobbiamo tornare in strada, ha detto Daniele Piervincenzi, cronista aggredito da un membro del clan Spadram, mentre girava un servizio a ostia, giornalismo d'inchiesta, vaccino per sconfiggere le bufale. Lasciamo il quotidiano e il centro, adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione abruzzese del messaggero. L'inserto Abruzzo apre così alta tensione in tribunale. Pescara, il processo per l'uccisione delle giovane Roma, Antonio Bevilacqua, i parenti della vittima affrontano l'imputato Massimo Fantauzzi, spintoni, insulti e minacce. Andiamo a vedere un estratto dell'articolo. Altissima tensione ieri in tribunale nell'udienza per il delitto di Antonio Bevilacqua, il 21enne Roma ucciso a colpi di fucile la notte tra il 15 e il 16 settembre scorso all'interno di un pub Scene da Far West, quando i parenti della vittima hanno cercato di aggredire l'imputato Fantauzzi, urla, spintoni, insulti, sedati a fatica dalle forze dell'ordine presenti, che hanno dovuto chiedere rinforzi. Anche il procuratore Massimiliano Serpi e gli altri magistrati sono intervenuti per riportare la calma. Andiamo adesso a centropagina. L'Aquila c'è fermento nel supercarcere, i boss in agitazione per il timore del trasferimento a Pianosa. Una cinquantina dei circa 151 boss mafiosi rinchiusi nel supercarcere dell'Aquila hanno dato vita a un'avvertenza interna chiedendo di essere ascoltati dai magistrati del Tribunale di Sorveglianza per il timore di essere trasferiti nel carcere di Pianosa. Un passaparola tra boss del calibro di Cesare Carmelo Lupo, Federissimo De Graviano e Sandro Lopiccolo, figlio del capo mafia Salvatore, tra i 16 latitanti più pericolosi che ha portato a galla. Come il regime duro si sia rivelato più che molle. La vicenda è all'attenzione della direzione dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero di Giustizia ad allarmare i detenuti l'ipotesi della nomina del magistrato Nino Di Matteo alla guida delle carceri. Andiamo adesso a centropagina. Mala di stagione saccheggiate le auto dei turisti. Furti a raffica a Punta Derci, a Pescara, tre arresti per colpi da Geox e uno in casa. E poi saldi la vigilia, Pescara parcheggi gratis, polemiche invece a Chieti. Nella fotografia Chieti, sentenza pilota della Cassazione, è reato, abbandona Fido e parte per la vacanza e viene condannata. Andiamo nel taglio basso. L'Aquila, il pasticcio, Cogesa, la Giunta ritira, la delibera. E poi invece di spalla troviamo una notizia che abbiamo già visto in precedenza. L'Enea, entro il 2100 Pescara, rischia di finire sott'acqua. Questo è lo scenario apocalittico disegnato dall'Enea insieme a Fossa Cesia e Martinsicuro, il capologo adriatico, inserito in uno studio sui cambiamenti climatici. Andiamo nel taglio alto per le altre notizie. Il Flaiano, domenica i Pegaso, la Guerritore e Ospetec tra i vincitori. Abruzzo da scoprire, Costa dei Trabocchi, da Ortone in giù, quelle cene sul mare amato dal Vate. Lo Sport, a questa ponevola a Cipro per la Champions di calcio a 5, i nerazzurri campioni d'Italia saranno ospiti dell'Apoel-Nicosia. Nel main round di ottobre prossimo, le altre avversarie del Girone sono chiaramente all'interno del giornale. Andiamo sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Anche qui in apertura la Coppa in Teramnia, città blindata ma aperta alla Coppa. Grande festa in Piazza Martiri, nonostante le misure antiterrorismo e una formula ormai al limite. E poi andiamo a vedere le altre notizie nel taglio alto. Oltre la clonazione per superare l'estinzione, Unite farà nascere Rino Ceronti in provette. Poi mutamenti climatici, Martinsicuro rischia di finire sott'acqua. Andiamo di spalla, Lite in giunta a Campli, Quaresimale fa fuori Agostinelli e Mariani Gode. Poi Teramo PD contrario all'assessorato tecnico esterno. E poi le elezioni provinciali, Podemos determinanti in provincia. Sotto la fotografia, iniziati i lavori all'ingresso del porto. A Giulianova sarà più accessibile e non si allagherà più. Nel taglio basso, Val Vibrata, iniziato il processo per spaccio con poliziotte e carabinieri imputati. E poi a Roseto degli Abruzzi, il sindaco difende l'ordinanza per la serenata d'amore. Torre del Cerrano, respinto il ricorso dei balneatori dell'area marina protetta. Questo per quanto riguarda anche la città, che chiude questa carrellata sulle prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo invece ad aprire lo spazio dedicato al nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. La stretta sul diritto d'asilo. Soldi alla Lega. Il ministro del Movimento 5 Stelle frena Salvini rispettare le sentenze. Governo e il Viminale, scrive i prefetti, spostati 42 milioni dall'accoglienza ai rimpatri volontari. In retroscena l'irritazione del Quirinale, scrive Marzio Breda. E poi ancora Cagliani, capo dei dipartimenti e Forza Italia. Il vice di Berlusconi, questo è il sunto sulla politica interna. Invece con l'editoriale Andiamo in Europa, lo stop a Strasburgo. Copyright, un valore per tutti, scrive Massimo Gaggi. Andiamo a centropagina. Nella fotografia l'annuncio via in caso di hard Brexit. La Jaguar pronta a lasciare il regno. Questa potrebbe essere la decisione della Casa Britannica, controllata dalla indiana Tata. Andiamo su Repubblica adesso. In apertura Salvini. Troppi rifugiati, linea dura, conti della Lega, il gelo del Colle. Stop anche alle madri. Mattarella, nessun incontro dopo la sentenza. Sui 49 milioni spariti per quanto riguarda i conti della Lega. Poi troviamo il commento. C'era una volta il Parlamento, scrive Chiara Saraceno. E poi il personaggio tratteggiato dalla Repubblica è il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro All Style, fra i due fuochi del populismo. E c'è l'intervista a Vincenzo Boccia, presidente della Confindustria. Decreto dignità. Il governo ha scelto strumenti sbagliati. Gli obiettivi sono giusti, ma sono troppe le zone grigie, secondo il numero uno degli industriali italiani. A centropagina la foto di Angela Merkel. L'Europa dei migranti. Berlino tratta con Roma. Schulz, la sinistra, si muova. Vogliono la fine della Unione Europea. Andiamo sulla stampa adesso. In apertura, migranti, ordine di Salvini, meno permessi umanitari. Il ministro vede il numero due libico, Maitig. Sfida ad Haftar per fermare la Francia. Il tedesco Seehofer si accorda con Vienna. I profughi devono tornare in Italia. L'incontro chiesto dal Carroccio, poi Mattarella avverte. Niente attacchi alla magistratura. Parla l'ex ministro dello sviluppo, Calenda, che dice a Di Maio, più disoccupati con il decreto dignità. La riforma del copyright rinviata. Se ne occupa Gianni Riotta. Copyright, la chance persa dall'Europa. E poi andiamo a vedere la fotonotizia Olimpiadi Invernali. Derby 5 Stelle Lega sulla città da indicare. In Lizza ci sono, ve lo ricordo, Torino, Milano e Cortina d'Ampezzo. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura è il Senato Famelina per difendere i suoi vitalizi. Sentiamo il Consiglio di Stato, sempre più casellati contro Fico, che chiede il reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle More e la fine della doppia indennità. Casta, audizioni pure Boeri per perdere tempo. Questa è la lettura del Fatto Quotidiano. E poi l'inchiesta, libero il foglio e non solo, ma che ha aboliti ancora 50 milioni pubblici ogni anno per i giornali. Scendiamo nella pagina. Lega, sede fantasma a Milano. Salvini, non ne sapevo nulla. Casse vuote, Mattarella, Gela, La Lega. Nessuna notizia di incontri al Quirinale. Andiamo ancora avanti con il Sole 24 Ore. In apertura un argomento diverso. Al Via Idazzi, Usea Cina, la guerra è sulla high tech. Politiche commerciali, tariffe su 34 miliardi di import da Pechino, che vara misure simmetriche. Shock dei mercati, la banca centrale cinese interviene a sostegno dell'Uguan. L'obiettivo della Casa Bianca è bloccare la rincorsa al primato tecnologico statunitense. A centro pagina, la trattativa per il passaggio alla Juve di Ronaldo. Effetto Ronaldo su Piazza Affari per quanto riguarda il calcio. 9,3 milioni, mito e punto in pensione. FCA prepara i poli italiani del lusso. E poi per quanto riguarda la borsa, più 2,28%. Generali cede l'Eben, incassa 1,9 miliardi e rafforza la liquidità. Altre notizie, sempre di economia. Boeing conquista i jet della brasiliana Embraer per quanto riguarda l'aeronautica. Poi per le regole comunitarie, la riforma del copyright si arena al Parlamento europeo. Una riforma per la verità sulla quale c'erano state numerose polemiche. Andiamo sul manifesto. Deriva umanitaria il titolo tradizionale sulla, come sempre, vocativa fotografia. Ridurre il numero delle protezioni umanitarie. Con una circolare, Salvini chiede ai prefetti severità nel riconoscimento di un diritto che riguarda principalmente donne e bambini. Esposta 42 milioni dall'accoglienza dei migranti ai rimpatri. Andiamo a vedere le altre notizie. Scontro tra Angela e il demone. Merkel e Orban, vertice a due a Berlino su migranti e Unione Europea. Andiamo su avvenire. Il quotidiano cattolico in apertura. I laici protagonisti, riconosciute le virtù eroiche di Giorgio Lapira, il giornalista Paolo Ruffini, ministro, tra virgolette, in Vaticano. Il fatto, il Papa dichiara venerabili il sindaco santo e il giovane Acutis, il direttore di TV 2000, va alla guida della comunicazione della Santa Sede. Le altre notizie. Salvini vuole meno asilo. La protesta della Caritas e poi ci sono i clan dietro i roghi in Campania. Questa è l'inchiesta su ciò che avviene appunto in Campania. Andiamo sul messaggero. Il quotidiano romano in apertura stretta sul diritto d'asilo e più fondi per i rimpatri. Migranti, circolare del ministro Salvini. Risposte più veloci e criteri più severi sui permessi. Dirottati i 42 milioni dall'accoglienza ai rimpatri. Armi ai libici. Stop embargo. Scendiamo. La Dima rotta pronto a volare a Madrid. Ronaldo e Juve vicinissimi. L'affare che rovescia il calcio. E poi dall'Atac la provincia. Nuovo filone su Parnasi che fa tremare la politica per quanto riguarda l'inchiesta partita dalla realizzazione del nuovo stadio della Roma. E poi troviamo l'editoriale di Oscar Giannino. Diritto d'autore negato. La grande bugia sul copyright che ha vinto a Strasburgo. Questa è l'opinione di Oscar Giannino. Andiamo sul tempo. Ancora giornali romani. Nell'attesa crepate. Titola in apertura Il Tempo che fa un'inchiesta sulla sanità naziale allo sfascio. Un anno per un attack. Solo una struttura su 5 rispetto ai tempi. Pazienti in fuga dagli ospedali. Andiamo sul libero. Nani, ballerine intellettuali attaccano Salvini per sport. Si illudono di nuocere al carroccio. Invece lo aiutano, secondo il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Mensile in cerca di pubblicità lancia una raccolta di firme contro il vicepremier. Abboccano Fazio Muccino, qualche cantante del PD. Intanto un sondaggio da eleghista come il ministro più gradito dagli italiani. A centropagina il Boiardo, l'ex rottamatore e l'industriale. Cacciare Boeri un dovere sociale, scrive Sandro Iacometti. Poi Renzi, assunto dal Cavaliere in TV. Dovrebbero andare in onda su Italia 1. Dei documentari su Firenze fatti da Matteo Renzi. E poi Ruffini, l'uomo del boom, il suo, scrive Renato Farina. Andiamo sulla verità. Le manovre dell'Eliseo. Piano di Macron per far cadere il governo scornato dalla linea italiana su migranti Unione Europea. Il presidente trama con pezzi del PD per approfittare di eventuali fratture tra Lega e 5 Stelle e rimettere in sella il filo francese Ricoletta. Il viminale da una stretta ai permessi umanitari. Era ora, scrive il quotidiano diretto da Belpietro. E poi, a centropagina, Renzi tratta con Mediaset, un futuro da Angela. Sotto la fotografia, i giudici di Napoli aboliscono il padre. Sentenza sdogana la stepchild. Due lesbi che ricorrono all'eterologa e vanno dichiarate madri. Andiamo sul giornale. Attacco di manifestite. Vogliono espellere Salvini. La solita sinistra radical chic firma un appello per cacciare il ministro. E lui rilancia stop agli asili facili. Questo è il titolo del giornale. Andiamo sul secolo d'Italia. Stesso argomento in apertura. Salvini fa miracoli. E il miracolo, secondo il secolo, sarebbe quello di riunire pezzi della sinistra contro Salvini stesso. E poi, primo piano, stretta anche su permessi. Salvini scrive ai prefetti. Difendiamo i poliziotti. Ecco la proposta di Fratelli d'Italia. E poi cambiamenti climatici, coste italiane a rischio. Tra cui anche quella abruzzese. Poi lo vedremo più avanti. Andiamo sul mattino di Napoli. Demolire tutte le case abusive. Il titolo di apertura consulta a boccia la legge della regione Campania che regolava gli abbattimenti. I comuni non potranno più acquisire gli immobili. Ora intervenga il Parlamento. E poi ancora la super sfida per quanto riguarda il calcio. Ancelotti arrivo per lo Scudetto a Napoli. Tutto pronto invece per il CR7 alla Juve. Ancora diritto d'asilo e rimpatri. Giro di vite del Viminale. Abbiamo già visto ampiamente in precedenza. Andiamo sui quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Chiaramente la trattativa per CR7 a tenere banco. CR7, Juve si può fare. Ronaldo rompe col Madrid. E più vicino Mendes, l'agente del portoghese. Se lascerà i blancos sarà per una nuova brillante sfida. Intanto scompare dalle foto ufficiali del club. Intanto presentazione al Parco dei Principi. Buffon lunedì sbarca a Parigi per legarsi al Paris Saint-Germain. Poi il Milan lì pronto a versare i 32 milioni al fondo Elliot. Ma vuole vendere. Spunta altro Mister X. Il presidente rossonero vorrebbe cedere il club in tempi rapidi. E poi l'acquisto nera azzurro. La scoperta di Lautaro. Ecco come può giocare la nuova punta dell'Inter. Nel taglio basso. Mondiale le sfide delle stelle. Il giorno di Mbappé e Neymar. La Coppa entra nel vivo. Il francese contro l'Uruguay di Tabares. Poi l'asso brasiliano affronta il Belgio. Le due partite, ve lo ricordo, sono Uruguay-Francia alle 16.00. E Brasile-Belgio alle ore 20.00. Trasmesse su Canale 5.00. Andiamo sul Corriere dello Sport. Anche qui l'apertura è dedicata a Ronaldo. CR7 luglio tra soffiate, balle spaziali e sogni possibili. Tutto sulla trattativa del secolo. Ieri l'incontro Agnelli-Allegri a Torino. La Galassia-Exor sta preparando l'assalto finale. Exor è la finanziaria della famiglia Agnelli. Determinante il mercato in uscita. Soprattutto la cessione di Higuain. Da Madrid è rimbalzata la voce e poi smentita dell'arrivo di Ronaldo. Addirittura domani l'azione Juve continua a volare in borsa. Andiamo nel taglio alto. Sarri fumata di Londra. Vicini alla conclusione della Carel con De Laurentiis. Nelle prossime ore al Chelsea. L'operazione condotta in prima persona dal presidente è stata sfiancante. Adesso Abramovic aspetta l'ex profeta del Napoli che ha chiesto a Allison il pipita se parte Morata e Kayekon. De Laurentiis può finalmente presentare Ancelotti. Nel taglio basso Neymar Mbappé sei ore da urlo per quanto riguarda Russia 2018. Poi Fabiano Show derby a Fognini a Wimbledon. Nell'italiano batte Vavrinca. Su Tutto Sport anche qui c'è CR7. Il colpo del secolo scrive Tutto Sport solo Juve. Svolta decisiva dopo l'incontro fa Perez e Mendes. Strada spianata per Ronaldo a Torino. Allegri è rientrato dalle vacanze per un vertice con Aniele e Marotta. Donne auto e loft. Tutti segreti del fuoriclasse. Poi al fila nasce il nuovo Torino, Cairo. Ora altri due colpi. I ritratti di Vittorio Felti, Luca di Montezemolo, il mio Monteprezzemolo. E poi oggi torna in campo il Mondiale. Mbappé Suarez e Neymar Hazard. Quarti d'alta qualità. E ancora Politano scalda l'Inter. CR7 Juve. Ci penso io. Questo per quanto riguarda Tutto Sport che chiude la carrellata delle prime pagine in questa prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Allora, torniamo come detto alle notizie dalla nostra regione nelle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal primo piano del centro. Fumata nera sullo stop al caro Pedaggi. A 24 e a 25 sindaci a Roma. Ma il ministro non c'è. All'incontro con gli amministratori abruzzesi si presenta il sottosegretario che rinvia tutto a fine luglio e promette di intervenire, ma gli aumenti, almeno per il momento, restano. Il caso il TSA all'ultimo posto lo farò rinascere. Il ministro boccia il teatro stabile d'Abruzzo, ma Cristicchi, che è il direttore artistico, accetta la sfida e rilancia promettendo di far rinascere e far tornare a nuova vita il teatro stabile d'Abruzzo. E domani all'Aquila l'attore recita De Andrè all'emiciclo alle 21 e 30. Andiamo sulla pagina Abruzzo della città. Il titolo è D'Alfonso crea imbarazzo in Parlamento. Si presenta come senatore in commissione al Senato, ma la Camera era atteso come governatore per il decreto terremoto. La Trappola, il Movimento 5 Stelle con i parlamentari Elio Lannutti, Primo di Nicola e Fabio Berardini, abbandona entrambe le commissioni e denuncia l'incompatibilità di D'Alfonso. L'idenza sulla doppia poltrona, intanto rinviata al 23 luglio al Tribunale dell'Aquila. E noi, a proposito di questo argomento, andiamo a sentire insieme il servizio di Giovanni Minicozzi. I due incarichi di senatore e di governatore ricoperti da Luciano D'Alfonso diventano un caso nazionale. Il Presidente della Regione Abruzzo è finito, infatti, su Repubblica.it, insieme a due sindaci della Lega, Galli e Tarantino, rispettivamente primi cittadini di Tradate, 19 mila abitanti, e di Samarate, 17 mila abitanti. Erano una ventina in tutta Italia, i parlamentari eletti il 4 marzo, che si trovavano in condizione di incompatibilità rispetto alla normativa prevista dalla legge 148 del 2011. Ma gli altri si sono dimessi dai loro incarichi di sindaco o di consiglieri regionali nelle scorse settimane, ovvero dopo il giuramento del Governo Conte, che di fatto ha scongiurato il pericolo di scioglimento delle Camere, almeno per il momento. Sono rimasti, invece, con il doppio incarico, solo i due leghisti e il Presidente D'Alfonso, il quale, a quanto è dato sapere, non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi da Governatore in tempi ristretti. Giova a ricordare a tal proposito che il dettato costituzionale all'articolo 122 recita testualmente Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a un'Aggiunta regionale e a una delle Camere del Parlamento. Più chiaro di così si muore, ma Luciano D'Alfonso finge di non capirlo, forse con l'intento di guadagnare tempo e fare slittare le elezioni regionali a primavera 2019 per tentare di ricomporre una coalizione di centro-sinistra ridotta ai minimi termini. Il Governatore, d'accanto suo, cerca di difendersi dichiarando «Sto facendo il doppio lavoro, ma percepisco una sola indennità. Non sto producendo né conflitti di interessi né un doppio costo». Sarà, ma la Costituzione sulla sua incompatibilità è chiara e su questo le opposizioni in Consiglio regionale, in particolare Lega e Movimento 5 Stelle, si accingono ad affondare il coltello nella piaga. e a coinvolgere il loro Governo nazionale giallo-verde. Quello che è certo, invece, è il fatto che il prossimo 16 luglio si insedieranno le giunte per le elezioni di Camera e Senato e Luciano D'Alfonso sarà costretto ad oppettare o resta senatore o presidente. Diversamente verrebbe estromesso da Palazzo Madama. C'è da scommettere però che a quel punto il Presidente opeterà per il Senato e si avvierà in tal modo l'iter per le elezioni regionali anticipate a novembre. Andiamo avanti, cambiamo argomento. La reazione delle imprese abruzzesi al decreto dignità Confindustria all'attacco bocciato, il decreto voluto dal Ministro Di Maio. L'associazione di Chieti Pescara contro il Governo ci sarà meno lavoro. Alla protesta si uniscono Confesercenti, Confcommercio, artigiani e piccole e medie imprese. Nel frattempo c'è un'avvertenza aperta da Faisa Cisal, sciopero degli autoferrotranvieri. Il 16 si fermano i treni della Tua, sciopero di quattro ore per il personale del comparto ferro dell'azienda di trasporto unico regionale. Andiamo a vedere di spalla. I tre sindacati denunciano lo stallo dell'Arap, l'azienda regionale per le attività produttive. Allora, andiamo a vedere anche questo servizio. Arap nasce dagli ex consorti industriali e sicuramente risente delle diverse, numerose, numerosissime crisi aziendali che questa regione ha incontrato in un periodo di difficoltà più generale. Ovviamente va riorganizzato velocemente un piano industriale che salvaguardi l'occupazione all'interno di una struttura estremamente importante, soprattutto per rilanciare le attività economiche e produttive all'interno della nostra regione. Ma per questo serve un piano di rilancio che permetta alle imprese di investire nei nostri territori e di essere presenti. Quindi diventa la struttura fondamentale fondamentale per il rilancio economico della regione. Voi chiedete anche alla regione che siano impiegati nuovi fondi per l'Arap? Naturalmente sì. C'era un impegno di utilizzare alcune delle attività previste nel masterplan perché fossero gestite, faccio un esempio, direttamente da Arap, per tutta la questione della depurazione delle acque, che è un nodo importante da tanti punti di vista, e però a oggi le risorse non arrivano. Quindi c'è un rallentamento anche rispetto a quelle attività che possono essere immediatamente fatte con le risorse ovviamente a disposizione. Ha bisogno di essere rilanciata e seguita, di stringere su alcune scelte perché vada avanti. Noi siamo convinti che serve, che è utile avere una struttura che supporta gli insediamenti produttivi. Andiamo avanti nelle pagine di Pescara adesso. Sul messaggero troviamo la cronaca giudiziaria perché ieri nel tribunale di Pescara c'è stata la prima udienza per quanto riguarda il processo sull'omicidio del giovane Rom Bevilacqua. Insulti e spintoni contro il killer Ressa in tribunale al processo per l'uccisione di Antonio Bevilacqua. I parenti della vittima affrontano l'imputato, Massimo Fantauzzi apostrofato come bestia animale. Il procuratore Serpi e gli altri PM cercano di placare gli anime. Vedete proprio le fotografie, gli scatti di quanto accaduto ieri in tribunale. La madre disperata era mio figlio. L'avvocato De Marco sono risentiti per la mancata aggravante. Nel richiamo in alto, forze dell'ordine prese in contropiede dall'aggressione scattata nei minuti precedenti, l'inizio della udienza. E poi nel taglio basso, spaccata da Geox e furto in casa, tre arresti in flagranza nella rete della volante, un marocchino e due minorenni incastrate dalle webcam. Andiamo avanti sempre sul messaggero. La notte dei saldi da spettacolo a Pescara. Sosta gratis dalle 18 di domani nell'area di risulta. Esibizioni strada e la Pescara Comic Convention dedicata ai fumetti. Intesa ritrovata tra i negozianti e l'assessore Cuzzi, Dolci e Cazzaniga. Le svendite partono troppo presto. Numerosi gli eventi in calendario. E poi andiamo avanti. La Guerritore e Opsetec. Ecco le stelle del Flaiano. Tra i vincitori del Pegaso, nelle varie sezioni, anche Ennio Fantastichini, la Botteri e Cattelan. La cerimonia domenica sera in Piazza Salotto. L'affermazione di Andrea Moro nella lettura. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo nella pagina Abruzzo. I cambiamenti climatici con lo studio di Enea. Si alza il livello del mare. Costa Abruzzese, Arrischio, Pescara, Mantisicuro e Fossa Cese. Tra le nuove sette località finite nell'elenco. Lo scenario si riferisce al 2100. Lo studioso bisogna ridurre le emissioni di CO2. Possiamo andare a vedere il servizio. Quello che state vedendo nelle immagini non è un film catastrofista hollywoodiano, ma come potrebbe presentarsi il centro di Pescara tra meno di un secolo. L'Abruzzo, infatti, è tra le sette nuove aree costiere italiane a rischio inondazione per l'innalzamento del mar Mediterraneo. Nella lista ci sono anche Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana. La previsione è stata fatta dagli esperti dell'Enea grazie a nuove misure sulla perdita di decine di chilometri quadrati di territorio dell'Italia entro fine secolo. Salgono così a una ventina in totale le aree costiere in pericolo a causa dei cambiamenti climatici e delle caratteristiche geologiche del paese. Secondo l'Enea, che ha presentato oggi a Roma in un convegno dedicato ai cambiamenti climatici e all'innalzamento del Mediterraneo le nuove mappe del rischio allagamento, le nuove sette aree sono quelle di Pescara, Martinsicuro e la Foce del Tronto, Fossa Cesia, Lesina, Granelli, Valle d'Oria e Marina di Campo sull'isola d'Elba. Le altre aree già individuate riguardano invece quella compresa tra Trieste, Venezia e Ravenna, il Golfo di Taranto, Oristano e Cagliari, ma anche la Versilia in Toscana, Fiumicino e Fondi nel Lazio e la zona dell'Agropontino, mentre in Campania il rischio ricade, sulla Piana di Sele e sul Volturno, in Sicilia invece sull'area di Catania e sulle Isole Olie. L'allarme era già stato lanciato dall'Associazione Americana Climate Center che studia i cambiamenti climatici, che ha realizzato uno strumento in grado di dimostrare gli effetti del riscaldamento e dell'innalzamento del livello del mare. Nelle pagine di Pescara del Quotidiano Il Centro, in viaggio con i passeggeri della trua senza aria condizionata, il bus diventa un incubo, sul 38 non si respira, l'unico spirale arriva quando si aprono le porte, sul 10 giorni fa hanno acceso per sbaglio l'aria calda, stavamo soffocando, raccontano i passeggeri. Il viaggiatore in attesa dei politici a bordo non resta che sventolarci. Andiamo avanti, il delitto bevi l'acqua, abbiamo già visto in precedenza lacrime e urla, ma la prima udienza è stata rinviata con momenti di tensione precedenti all'inizio dell'udienza. E poi, ospedale, mancano 12 anestesisti, liste d'attesa sempre più lunghe per gli interventi chirurgici, fortunato non riusciamo a trovare specialisti in tutta Italia. Ancora sul telefonino le foto delle ladre in casa, grazie alla webcam ha piazzato all'ingresso, il proprietario ha avvisato la polizia, arrestate due sedicenni. Proseguiamo, Forza Italia salva il PD sul voto in consiglio, l'opposizione rimane in aula per far approvare una variazione di bilancio, Antonelli dice non è un inciucio. E poi, migliaia al concerto all'Adriatico, questo sogno comincerà qui, Negramaro accendono lo stadio, ieri sera il grande concerto. Nella pagina di Montesilvano, turismo e solidarietà, mare senza barriere per disabili e famiglie, il Comune rende accessibili due spiagge libere con servizi idonei e l'assistenza volontaria di immigrati, ospiti degli SPRAR. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. È un progetto che ci auguriamo possa essere esportato, perché è un progetto di sintesi tra quelle che sono le esigenze dei diversamente abili e quelle che sono le attività che gli ospiti dello SPRAR possono e devono porre in essere. Oggi finalmente inauguriamo, anche per questa stagione estiva, una spiaggia per i disabili sempre più attrezzata, con migliori strumenti che consentono ai diversamente abili di poter fare il bagno, di godere della spiaggia in assoluta sicurezza, sotto la supervisione e l'assistenza di sei ragazzi del progetto SPRAR che del tutto gratuitamente, questo lo voglio evidenziare, hanno messo a disposizione le proprie abilità, la propria capacità e soprattutto la propria opera per far star meglio persone meno fortunate di noi. Lo stanno facendo davvero con grande entusiasmo, grande passione, ieri hanno ripulito tutta la spiaggia, già sono entrati nella simpatia dei ragazzi, degli anziani, dei diversamente abili e ci auguriamo che questo progetto, che è un progetto di grandissimo spessore sociale, possa essere esportato anche in altre realtà per far capire che con le idee ma soprattutto con la volontà si possono raggiungere traguardi sperati. Essere al fianco di chi ha problemi, essere anche al fianco di chi arriva nel nostro paese per fare qualcosa di buono, va anche in questo senso il progetto di questa spiaggia senza barriere qui a Montesilvano, Claudio? Sì, è una risposta a quello che dicevi tu, cioè i problemi non esistono, laddove c'è un ambiente accessibile, punto, noi abbiamo fatto questo, abbiamo aggredito un ambiente, lo abbiamo reso accessibile e grazie a questo le persone possono integrarsi, godere della spiaggia e godere del mare. È abbastanza semplice, dicevo, abbiamo il paradosso in Abruzzo che c'è una legge che dà diritto ai cagnolini di venire in spiaggia, tra l'altro non c'è assolutamente una legge per le persone con disabilità di venire in spiaggia e quindi questo è un grande plauso al comune di Montesilvano che ha avuto un punto di riferimento nazionale, un grande segnale anche di civiltà anche con questo progetto meraviglioso con gli extracomunitari applaudito e gradito da tantissimi cittadini. Andiamo avanti, passiamo alle pagine di Chieti sul messaggero. va in vacanza e lascia il cane a casa e il reato teatina nei guai la Cassazione ha respinto il ricorso della donna sia al sequestro dell'animale lei era andata in ferie per due settimane ora è scattata l'accusa di maltrattamento poi precipita da 7 metri grave un operaio di 42 anni l'incidente sul lavoro in un cantiere di Brecciarola carabinieri sequestrano l'area andiamo nel taglio basso Commercio lancia l'SOS stop alla concorrenza sleale a Megaloyl via con grandi eventi prima gli inviati delle Iene poi il DJ7 a cura di RDS nella pagina successiva spaccate furti nelle auto dei turisti ladri colpiscono a Punta Derci a Vasto nelle aree di sosta dei bagnanti finestrini in frantumi e borse sparite una coppia pugliese e una famiglia di Ferrara le ultime vittime il cogestre farà installare cartelli e telecamere di videosorveglianza poi ancora Pizzo sui morti le accuse in un dossier di 500 pagine l'operazione Eterno Riposo il 10 luglio gli interrogatori Capaldo situazione nota ma nessuno l'ha denunciata e poi salda il debito al fisco assoluzione per Maio andiamo sulle pagine del centro di Chieti il Maruccino senza soldi attori non pagati scattano le ingiunzioni il protagonista della prima opera del bicentenario fa causa per la parcella mai vista aspetto da 8 mesi nessuno salda il conto e poi nel taglio basso lavori mai fatti 4 indagati inchiesta per frode sull'ex gestione della piscina sotto accusa c'è anche Puddu e siamo chiaramente tecchieti poi di nuovo l'incidente sul lavoro di Brecciarola nella pagina successiva l'inchiesta sul cimitero di Vasto una sepoltura sì ma c'è la spesa extra le intercettazioni dei tre dipendenti comunali arrestati tangenti da 250 euro per le tumulazioni fuori dai giorni stabiliti e poi ancora lo scambio di coppie finisce in tribunale Palmoli si presenta l'appuntamento senza la moglie scatena le ire dell'altro botte e minacce scusate nel taglio basso truffa un'anziana arrestato finto postino a testa napoletano si fa consegnare 2600 euro e ne chiede altrettanti ma i carabinieri lo fermano andiamo adesso nelle pagine di Teramo il processo Castrum a palti e mazzette favori per la casa dell'ex assessore il finanziere in aula il marito della Mastropietro ebbe l'incarico di eseguire lavori prima del permesso di costruzione e poi Crack Sogesa a processo l'ex presidente rinviata il giudizio di Pietro e Marchetti prosciolti quattro componenti del CDA e due consulenti nel taglio basso l'università salva il rinoceronte bianco l'ateneo nella task force internazionale per creare embrioni della specie funzionalmente estinta pagina successiva sparite 232 biciclette del bike sharing delle 350 che erano a disposizione a Roseto ne sono rimaste 118 il comune ricorre ad un nuovo bando per affidare il servizio ancora ordinanza dopo le proteste dei residenti arrivano i dissuasori di sosta in via Mazzini e in via Latini nella pagina successiva superi al mercatone i sindacati si appellano alle istituzioni per il punto vendita di Pineto chiesto l'intervento di regione provincia e comune di Pineto per evitare il licenziamento di 19 dipendenti del punto vendita nel taglio alto a Stolfi ancora niente fondi per la frana di Casoli l'ex assessore ed ex sindaco polemico con la regione andiamo a vedere le pagine di Teramo sul messaggero e qui troviamo la Coppa Interamnia grande sfilata tra misure di sicurezza e mugugni possiamo vedere anche qualche immagine di ieri sera la piazza è stata bonificata anche attraverso l'ausilio di unità cinofile proteste dei titolari di bar e ristoranti in cui è stato imposto di ritirare tavolini e sedi state vedendo proprio le immagini che riguardano la parata di ieri in centro a Teramo come sempre grande entusiasmo per la Coppa Interamnia anche se avete visto ci sono state polemiche per quanto riguarda la blindatura dovuta alle nuove leggi antiterrorismo del centro una Teramo blindata si apre al mondo della Coppa titola la città grande festa in piazza martiri per la Interamnia World Cup chiaramente anche qui vengono riportate insomma le problematiche legate all'antiterrorismo possiamo rientrare in studio con le belle immagini della Coppa Interamnia andiamo avanti sul messaggero Gilplast sono salvi 112 posti di lavoro da lunedì inizia il nuovo corso targato PFCSPA solo in sei andranno via dopo aver trovato l'accordo con l'azienda la società si dice pronta a nuovi investimenti già presi tre ingegneri presto novità nell'intero ciclo produttivo andiamo sulla città come abbiamo visto queste sono le immagini della Coppa Interamnia andiamo avanti PD contrario ad un tecnico come assessore esterno siamo alla politica che riguarda Teramo i DEM preferirebbero un esecutivo a sette tutto politico in puro stile Manuel Emanuele Cencelli e poi nel taglio basso Quaresimale fa fuori Agostinelli e Mariani Gongola per la regione il sindaco ritirerà le deleghe dell'assessore dopo una serie di screzi strade a spianata per il capogruppo DEM alle regionali i motivi della cacciata il sindaco cita dubbiose richieste di assunzioni la denuncia di un dipendente comunale e i ritardi per il piano regolatore andiamo avanti Podemos determinanti per la provincia le civiche terramane non vorrebbero un presidente targato PD in ballo la Cacciotti d'Angelo e lo stesso d'Alberto oltre la clonazione abbiamo già visto in precedenza a Teramo nasceranno i rinoceronti in provetta andiamo avanti i disagi per scongiurare i blackout epocali nell'Interland lunghe interruzioni di corrente per la modernamento delle linee chiesti più generatori ancora la cronaca maxifrode nel settore delle carni 17 arresti sequestri della guardia di finanza di Ro anche nel Terramano per un'evasione da 300 milioni di euro i mutamenti climatici qui il focus è su Martinsicuro che rischia di finire sott'acqua almeno nelle previsioni di uno studio dell'Enea andiamo ancora avanti spaccio sulla costa via il processo imputati anche un carabiniere e un poliziotto udienza aggiornata a novembre ancora iniziati i lavori all'interno e all'ingresso del porto di Giulianova l'accesso sarà allargato grazie all'abbattimento del muretto inutile proseguiamo città divisa sulla serenata sindacale di Girolamo pronto a fare 100 ordinanze per difendere una tradizione il CIRSU poi in due a processo per il fallimento Sogesa rinviata a giudizio di Pietro e Marchetti prosciolti gli ex vertici CIRSU e la D-DECO assolti i consulenti poi a Silvi traffico paralizzato e code fino a 3 km sull'Adriatica disagi per i lavori lungo la statale la concomitanza della potatura delle alberature sul lungomare andiamo nell'area marina protetta respinto il ricorso dei balneatori del Cerrano niente da fare per gli operatori della zona protetta che si erano rivolti al TAR contro il regolamento andiamo ad aprire le pagine dell'Aquila adesso il caso centro turistico battaglia sugli incarichi direttore Cordeschi appella ANAX un affidamento al mio amministratore unico Pignatelli dal comune di Leonessa e siamo sulle pagine del centro e poi ancora acquisizione quote cogesa delibera ritirata il sindaco verrà riscritta e depurata da imprecisioni che poi andrà al vaglio del Consiglio Comunale nel taglio basso fondi per il sociale PD lancia l'allarme andiamo avanti restiamo sempre in casa Partito Democratico il segretario prende tempo la scissione sono sorpreso Albano scettico sull'annuncio di Benedetto Iorio e Nardantonio di aderire a passo possibile non ci saranno altre uscite decisione improvvisa e mai comunicata alla direzione del partito e poi uffici ricostruzione altre adesioni allo sciopero oggi scatta la mobilitazione con uno stop di quattro ore previsto anche un presidio davanti alla prefettura nel taglio basso nuova volta la statua sfregiata dal sisma l'Aquila e il San Leonardo protettore dei carcerati cadde a terra al castello ora è esposto al Munda prima di passare allo sport sul centro andiamo sul messaggero a vedere le pagine dell'Aquila acquisto delle azioni Nicogesa la giunta ritira la delibera dopo la pagare in commissione l'esecutivo ha cassato il provvedimento quote acquisite già alla fine di gennaio senza il parere del consiglio comunale nel taglio basso i boss al 41 bis vogliamo restare alle costarelle class action di 51 detenuti contro l'ipotesi di trasferimento nella struttura di Pianosa avanti sempre con le pagine dell'Aquila i nostri borghi sono stati dimenticati l'appello accorato del sindaco di Santo Stefano di Sessanio siamo isolati privi di aiuti e di un piano organico di sviluppo Santa Vicca reclama attenzione per tutto il comprensorio per la rinascita dice serve una strategia condivisa sul turismo e poi ancora per la visita ripassi a dicembre il caso di reumatologia l'unico reparto marsicano che si trova a Tagliacozzo intasato e si invitano i pazienti a recarsi all'Aquila nella struttura dell'ospedale del capoluogo si effettuano i controlli solo nella giornata di lunedì e su prenotazione andiamo nelle pagine di Sport adesso sul messaggero in apertura Pescara nel mirino il baby Antonucci il delfino ha chiesto il 18enne alla Roma che l'anno scorso ha esordito pure in Europa Sebastiano e Leone puntano sui buoni rapporti con i giallorossi per strappare il sì e poi l'intervista Iaconi questo calcio senza meritrocrazia non mi piace dice l'ex tecnico del Pescara e poi Champions League la Quessapone vola a Cipro siamo al Futsal in Erazzurri campione d'Italia saranno ospiti dell'Apoel Nicosia nel main round di ottobre nella pagina successiva la Serie C Teramo tre persone entrano in società il presidente Campitelli svela l'ingresso di nuovi volti prenderanno il 15% del pacchetto bianco-rosso il padron di uno però non posso svelare il nome mentre gli altri sono abruzzesi che vogliono bene al club la Serie D Bruno Conti dice no ho dovuto scegliere di restare alla Roma troppo clamore dopo la mia visita allo stadio dell'Aquila e ancora il rugby scusate Avezzano Rotiglio e il nuovo allenatore andiamo sul quotidiano il centro ripartiamo dalla Serie B per le pagine di sport con le trattative di mercato Pescara Cercasi Attaccanti la New Entry e Antonucci i dirigenti Biancazzurri incontrano l'agente dell'esterno offensivo della Roma Monachello verso Perugia Bonazzoli vicino al Padova Alex Oddo dice no all'Ascoli scendiamo nel taglio basso Peschetola e la beffa e la bella scusate favola con l'Inter il baby di Cupello cresciuto nel Pescara vinto Scudetto e Supercoppa Under 15 e poi ancora disposta una nuova ispezione sul bilancio la sentenza del Tribunale ci sarà l'8 ottobre per quanto riguarda i conti del Delfino andiamo a parlare del Teramo Federico il Teramo punta i playoff il DS Biancorosso l'ambiente ha bisogno di tornare protagonista arriva Ferretti Vinacri a Terni accordo con la Lega e in Serie D Sieno dice sì l'Aquila servono soldi poi ancora Teate Marchesani sarà il presidente fatta per Guie basket di Serie B lunedì la presentazione alla provincia Magic Cigold ingaggiato il 26enne centro Ala Musci questo per quanto riguarda il basket e poi il calcio a 5 a Cipro il debutto in Champions dell'Acqua e Sapone questo per il Futsal siamo davvero in conclusione della nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina l'appuntamento con Mattino 6 e per domani alle ore 8 la nostra informazione invece torna oggi con le tre edizioni del telegiornale alle 14 alle 19 e alle 23 grazie ancora e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.